Cia, rire, toccici, cia, 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 cia. Tutti gli anni si sale con le pecore in Val Varrone? Sì, dopo tre settimane in ombrega, attraversiamo sulla sponda che da qui si intravede, che arrivi in di là Ghid, attraversiamo Artino per arrivare fino alla Reci dove sostiamo per 4-5 settimane a seconda dell'erba che troviamo d'altronde sono tante, bisogna farle mangiare dopo non tutti gli anni sono uguali perché quest'anno l'erba è un po' di meno però sembra che gli animali renda di più sugli animali essendo meno, essendo più tenera è tutto però vedremo poi a fine stagione come va non possiamo ancora fare un bilancio adesso su come va a finire a settembre com'è la vita del pastore? la vita del pastore è sempre la solita è sempre una guerra continua con il tempo, con tutto adesso ci sono anche i cinghiali, hanno deturpato tutto l'alpeggio e d'altronde non possiamo farci niente finché non si metterà un sistema un po' drastico su questi animali non possiamo farci niente, noi siamo qua per far mangiare le pecore non siamo qua per alimentare i cinghiali però è un problema un po' pesante perché come avete visto l'alpeggio è proprio disastrato d'altronde è così, non possiamo farci niente e poi hai dei validi aiutanti? eh sì, se non avessi qua i miei cani potrei stare a casa a fare scaffè un'altra volta perché se lasciamo fare quello che vogliono in due giorni sono alla cima dopo l'erba su in alto è più buona rispetto a questa qua in basso giustamente qua così se non le tieni un po' a regime loro vanno a cercare quella migliore ogni giorno alla mattina quando si arriva vicino alle pecore si guarda che sia tutto a posto che non ci siano animali che non stiano male bisogna controllare sempre se c'è qualche nato se è tutto a posto e poi via si apre il recinto, si fanno uscire le pecore tutto il giorno si fanno pascolare si guarda che nessuna abbia partorito poi c'è quella zoppa, quella che gli piange l'occhio tutto il giorno dietro a queste pecore a controllarle per il loro benessere farle mangiare non è abbastanza però bisogna anche saperle curare nel momento che sono malate cosa ti piace di questa vita? la libertà la libertà che vedi il sole sorgere vedi il sole tramontare